Lui l'altro giorno è nata, la giornata è venuta, le cariche quando si mette anni superiori non è il problema E comunque noi l'abbiamo vista fuori di stasera dalla camera Dai amore guarda che bello, bellissima vediamo i fughi Ti posso mangiarmi un gelato in santa pace, io non lo so E chiudiamo così con il nostro momento dog che appartiene ultimamente quasi sempre ad Antonella La Fiore dell'Iso, un bacione, ciao